radio bruno in diretta dal festival di sanremo rieccoci amici di radio bruno qui da sanremo facciamo una super magia tac ecco con noi mudimbi ciao benvenuto ma sapete perché sto scherzando con questa bacchetta magica perché il suo gadget ovviamente per la canzone il mago esatto esatto che magia è essere sul palco dell'ariston è una bella magia una magia che ci siamo conquistati e costruiti ma è pur sempre una gran magia ho sentito che hai lasciato il tuo lavoro perché la musica ti ha richiamato ha detto all'officina guardate io vi voglio tanto bene siete una famiglia però non ce la faccio la musica è più forte di me mi richiama io devo andare esatto il discorso che ho proprio impostato quando sono andato a licenziarmi era basato sulla felicità mia che non c'era in quel momento in realtà anche a prescindere dalla musica al mio datore di lavoro semplicemente detto piuttosto che buttarla sul sogno voglio fare questo voglio fare quello voglio sforzarmi di capire come posso essere felice e finché rimanevo lì non potevo sicuramente investire tutto il mio tempo e tutte le mie energie cercando appunto dove la mia felicità fosse quindi ho preso armi e bagagli e mi sono messo a cercarla e adesso siamo qui siamo qui e dovrei dirti anche va come va come va 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 bene anche se male mi dicono dalla regia nella canzone tra l'altro citi un mito assoluto che ti ha anche invitato a casa sua rietta berti sì 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 assolutamente che mi ha invitato a casa sua che a volte mi telefona mi scrive mi manda coricini dai ma cosa ti scrive mi chiede come sto ma chiesto addirittura verso capodanno mi chiedeva che cosa fai a capodanno infatti non capivo se voleva che organizzavamo qualcosa insieme andiamo in discoteca è simpatica cioè veramente alla mano è simpatica ti ha dato un consiglio perché lei ha calcato il palco diverse volte guarda in realtà mi ha dato molti consigli ma in generale proprio su quello che è il mondo della musica sui retroscena mi ha raccontato tanto delle sue esperienze perché giustamente ne ha viste ne ha vissute quindi farò tesoro di tutto quello che mi ha detto lo sai che comunque un grandissimo circo musicale bisogna essere forti perché non è soltanto l'esibizione serale ma ci sono tantissime interviste da fare ovviamente radio bruno è sempre aperta a te quindi ti aspettiamo a breve cosa bisogna dire viva il lupo che oppure facciamo una magia non facciamo quello che sappiamo fare facciamo una magia divertiamoci andiamo sul palco cantiamo bagliamo portiamo colore qualsiasi cosa me le gioco tutte le carte del mago ha giudicato allora tac con la bacchetta magica di mudimbi grazie mille grazie a voi radio bruno in diretta dal festival di sanremo in collaborazione con grissin bond modena giochi alessara guest house mondo convenienza rosanna alpi concessionaria rino franciosi cornacchini ods giocattoli e biper banca